Well hey kooj, ben ritrovati da vostro, andrei l'incremento, uno si nozuma eleven, tre lampo fulgorante Dunque, ho chiuso un po' alla cane la scorsa volta, ma non avevo tempo di registrare Perché dovevo comunque sia editare i video, avevo registrato tipo tre ore di fila Quindi mi serviva un attimo uno stacco E poi dopo continuare E ieri praticamente, quindi sì So che praticamente ho questa maglietta da sei video, più o meno una cosa del genere Però è solo un giorno che la porto Cioè, ad ogni modo, dobbiamo andare alla Raymon per allenarci Torna alla... ho detto Raymon e non Raimon Mi sto italianizzando anch'io, no? Si dice Raimon, Raimon significa tuono, cancello o fulmine, cancello Rai, fulmine, mon, cancello Sì, sembra un po' strano mon e cancello, però L'hanno deciso loro, i giapponesi, la lingua è loro, facessero come si pare Dunque, statemi bene a sentire La voce per Travis mi piace Per i prossimi due giorni vi vieto di fare qualsiasi tipo di allenamento Non potrete lasciare il dormitorio Cosa? Niente allenamento? Ma mister Non siamo pronti, siamo lontani anni luce dal saper giocare come un solo uomo Dobbiamo sfruttare questi due giorni per concentrarci sul lavoro di squadra Se non ti sta bene, vai via Ma se perdiamo questa partita dovremmo abbandonare il torneo O ha forse intenzione di impedirci di vincere Proprio come ha fatto con la Cherry Blossom Junior High Jude! Non ha nulla da dire Mark, ciascun membro della squadra avrà una stanza Sarete liberi di girare per l'edificio ma nessuno potrà abbandonarlo Fammi sapere quando sei pronto È una cosa un po' strana che ogni membro della squadra avrà una stanza propria Molto strano, perché non ci fanno dormire tutti insieme in una grandissima stanza? Tipo quando ci sono gli sfollati che li fanno andare nelle palestre Sì, simile Cosa hai in mente, allenatore Travis? Sarà meglio che vada al dormitorio quando sono pronto Parla con Cammi quando siete pronti? Io avrei scaricato i dati, no? L'ho fatto subito ma ancora non c'è nulla per comprare le chiavi e le cose a fine gioco Però va bene, io penso che possiamo però andare direttamente Flash fotonico, difensiva, ottimo, ottimo E niente allora, parliamo con Camellia, eccola qua Oh Mark, non potrete abbandonare il dormitorio per i prossimi due giorni Hai con te tutto quello che ti serve? Aspetta però, non ho nulla Acqua minerale e barretta Non potrò lasciare il dormitorio Va bene, andiamo, dai Non penso sarà un po' un problema Mi mostra la stanza, ok Più veloce, per favore Ah però, ben attrezzate, eh Beh, quella di Jude più che altro Non ha senso, non posso restarmi qui seduto senza far niente Eh eh, sembra che anche voi la pensiate così Mark, torna nella tua stanza, ti prego Mister, per favore, ci faccio allenare Sotto la pratica rende perfetti e sa benissimo che dobbiamo impegnarci ancora molto Bla bla bla, basta piagnocolare Se non ti senti pronto, facci un favore e lascia la squadra Non saranno certi i prossimi due giorni a renderti un campione Però in due giorni si può perfezionare una tecnica Mister, mi dispiace davvero tanto Mister, cioè, c'è due volte Mister, mi dispiace davvero tanto, mister, ma devo proprio andare all'emergenza Eh? Austin, cos'è successo? Eh, mister, anche io devo andare Non provarci, Wallside Oh, non fa niente, mister, mi scusi, mister Ma che succede? Sto gattai l'ora di nascosto non è nel mio stile Uscirò dalla portata principale Farò vedere a Hansen e quello di cui sono capace Altro che barzellette Ah, se resto qui finirò per impazzire Devo allenarmi, io esploderò Per favore andatevene, non potete stare qui Non possiamo? Cos'era quel rumore? Sembra che ci sia qualche problema vicino alla porta sul retro Probabilmente Sono tutti quanti i ragazzi che cercano di scappare Ho davvero tantissime monete Questi geni non hanno ancora capito il motivo Eh, eh, eh Eh, lo so, Caleb, lo so Purtroppo Non è facile capire perché Il tuo allenatore Che ti deve portare alla vittoria Tutta la tua squadra ti vieta di allenarti Ti vieta di allenarti Vabbè, è un po' ridondante ma Beh, allora Andiamo appunto a vedere quello che c'è qua Perché hanno lasciato la scritta in giapponese? Qua hanno lasciato la scritta in giapponese Boh, non lo so La porta sul retro, eccola Che succede qui? Finch, che fai qui? Capo, devo dirti una cosa, capo Ce l'hai un minuto? Senta, non andrò da delle armi, d'accordo? Devo solo occuparmi di un paio di cose Farò in fretta Archer, ehi, dove stai andando? Scusa, Mark, il dovere mi chiama A tra poco Vedi Travis Non è stupido Anzi, è molto furbo Sa bene chi vuole sgattaiolare per allenarsi E chi ha veramente da fare Mark E voi tutti Tornate dentro Non andrete da nessuna parte Perché ostilarci possono uscire in noi? No, uffa, non è giusto Lo so, Mark, è dura Ho un po' di retroscena su Archer Archer, devi tornare, capo Torni dentro e resta con noi Perché perdi tempo a dare calcio a un pallone? Secondo te starai perdendo tempo? Non ti azzardare Dillo di nuovo e ti faccio vedere io Come sono bravo a dare calcio alle cose Scusami, capo È solo che la truppa è allo sbanno senza di te Sì, e allora? Non sono affari miei È un problema vostro Con voi ho chiuso Ora Gioco in una squadra di calcio E non è una squadra qualunque Cosa? Ci vuoi mollare? Ma, ma capo Ve ne farete una ragione Ci vediamo Capo Ma che ti è successo, capo? Sei Sei cambiato Quindi il calcio è più importante Il tuo vecchio amico, è così? Ho preso la mia decisione O il calcio O niente Non puoi uscire, torna in camera E se io ci provassi lo stesso Uscire che succederebbe? Ucciderebbe? Senti, hai quella informazione Torna da me più tardi Un capitolo intero ho aspettato Quanto devo tornare? Quanto più tardi? Ah, non posso giocare Ne meno amichevoli Giusto? Giusto, scusami C'ha ragione C'ha ragione Non posso No, volevo solo vedere Se me le faceva fare E non me le faccio Non me la fa fare, infatti Torna in camera Ecco, infatti Cos'è? Sono certi di averlo già visto Altrove prima d'ora Niente paura Ci siamo qui noi Per spiegarti tutto Ma a chi ho parlato? I fratelli veteran Ah, siete di nuovo voi Guarda bene questo formine luminoso Oh, niente male, vero? Questi simboli indicano i luoghi In cui puoi fare quello che chiamano training Fare training vuol dire spentare i punti passione Per accrescere i parametri dei tuoi giocatori Potremmo darti alcuni punti per fare una prova Che ne dici? Eccoli, ragazzo Ah, 100 Perché con 80 si inizia Con 100 la seconda volta Giusto? Allora, non vuoi provare? Che gusto c'è altrimenti? A meno che non li hanno Tutti quanti aumentati? Spero di no Il controllo? Vediamo quelli con il controllo più basso Andiamo con Jack Faccio due Jack e due Todd Anche... Sapete perché Todd di squadra sarebbe buono? Mi sembra che dovrò usarlo a un certo punto Non mi ricordo di preciso ma... Forse Quindi penso che lo alleno un paio di punti anche a lui Wow, divertente! Quare che le nostre abilità possono migliorare davvero Grazie a questo training Dovremmo farlo più spesso Ci sono training point un po' dappertutto Trovali tutti E le tue giocature alla perfezione In bocca al lupo ragazzo mio E vai così Nazma Japan Vinceremo! Cerca i training point Sparsi dappertutto Tutto ciò che mi serve è un pallone E posso linearmi ovunque Anche qui Quindi... In qualsiasi modo lo si guardi Hawkinson si è imratagliato per giocare in una squadra nazionale Perché l'hanno scelto? Qual è il piano dell'allenatore Travis? Cos'era quel rumore? Sembra provenire dalla stanza di Mark Penso di potermi fermare ritirandomi qui? Se lo può scordare Troverò un modo per allenarmi Non importa dove Devo solo... Hop! Lanciare il pallone contro il muro Così Yeah! Potrò... Migliorare la mia capacità di... Sì! Reazione Ah! Hop! Yeah! Faccio i versi È sempre il solito vecchio Mark eh Solo lui potrebbe trovare un modo per allenarmi Chiuso in una stanza Jude Se Mark ha deciso di fidarsi Dell'allenatore Travis Lo farò anch'io Che fate voi due lì? Allora? Non state voi degli imparati Entrate! Avete mai pensato su serio A cosa vuol dire Essere campioni del mondo? Significa aver giocato Con le migliori squadre esistenti E averle battute tutte E tutti sanno che siete i migliori al mondo Se ci penso Non riesco a contenere l'entusiasmo Non vedo l'ora di affrontare Questa avventura con voi Vedere come giocano le altre squadre Imparare da loro Anche io sono impaziente Allora andiamo fino in fondo Vinciamo il football frontier E diventiamo campioni del mondo Campioni del mondo eh Campioni del mondo Campioni del mondo Avete sentito tutti ragazzi? Neanche io mi arrenderò a Mark Mi allenerò nella mia stanza Finché non mi faranno male le gambe Ok Cercare di tenere la palla in movimento In uno spazio così stretto È un ottimo allenamento Per il controllo della palla L'allenatore ci ha rilato di rimanere qui Ma ciò non vuol dire Che non possiamo tenerci impegnati Non importa dove ci troviamo Dobbiamo fare del nostro meglio Con le risorse che abbiamo a disposizione È deciso allora Ci alleneremo duramente E poi sceglieremo in campo Per vincere Finalmente hanno capito Bene Forse ora faranno silenzio E riuscirò a farmi una dormita Sì lui già sarà allenato Eh hanno capito Travis Hanno capito Allenati per diventare campione del mondo Devo fare un altro allenamento Ok Sarei stanco Mark la cena è pronta Se hai fame Vuoi terminare l'allenamento per oggi? Bene scendiamo allora Ti va? Che succede? Buongiorno In cosa posso servire? Oh Sei tu Saluti così un vecchio amico? Non preoccuparti Sono qui solo per un piatto Dei tuoi teriziosi spaghetti Non mi fermo Ti fermi a mangiare? Sì in Giappone In effetti I bar I ristoranti Di ramen Questi così Sono molto Veloci Mangia e te ne vai Non è che stai lì A chiacchierare Con il negoziante Oppure ti fermi Due tre ore Come fanno Come fanno In certi ristoranti Prendi Mangia e te ne vai Ma guarda Chi si rivede Come va con la squadra? È un gruppetto molto motivato Soprattutto Quell'Ivans La motivazione non basta Per vincere un campionato Del mondo No Immagino di no Io lo so perché Li hai rinchiusi nelle loro stanze Travis Lei è un tipo furbo Lo ammetto Scommetto però Che i ragazzi Non sono molto felici Della sua decisione Lasci che sia Occuparmene Sono abituato A questo genere di cose Ok È davvero una persona solare Immagino Che abbia a che fare Con quella storia Di dieci anni fa Permette ancora Suo rancore Verso tu Sei chi Di condizionargli La vita Di una cosa Sono certo però Se gli è andato Questo incarico Vuol dire che le cose Si stanno mettendo meglio Per lui Con il passare degli anni Si è diventato più tenero Eh Hillman Hillman Ti senti bene? Non farmi brutti scherzi Sto bene Sono un po' stanco Lo sai com'è? Stare in piedi Tutto il giorno Può giocare brutti scherzi Alla schiena Non farmi spaventare Ormai entrambi Abbiamo una certa età Ragazzi Sapete L'Inazuma Eleven La prima Inazuma Eleven Le vecchie glorie Avevano Tra i dieci e i vent'anni Quando Hanno iniziato O meglio Quando è successo Quell'incidente Che ha portato Alla Morte David Evans E ha lo scioglimento Dell'intera squadra Diciamo che avessero Massimo Vent'anni Perché di più Non può essere Andavano a scuola Il football frontier Andorna per le scuole Sono passati Quarant'anni Avranno massimo Sessant'anni Avete una certa età? A sessant'anni Mosini si avvive Oh Però Vedremo poi Quello che è successo Con Hillman Due giorni dopo È giunta l'ora Della partita Orgurale Delle qualificazioni Per il football frontier International È ora di affrontare I big ways Siete tutti pronti Per far vedere A quegli australiani Quello che sappiamo fare? Sì! Ehi Axel Cosa erano Quei rumori Che venivano Dal tuo stanza Ieri notte? Già Cosa combinavi? Non sono riuscito Chiudere occhio Grazie a te Scusate Volevo Siuscirvi una nuova tecnica speciale sono riuscito a perfezionarla davvero una nuova tecnica speciale come funziona voglio vederla dai fammi vedere deve aspettare per vederla austin quindi l'allenamento solitare ha servito axel puoi dirlo forte avvitamento esplosivo qual era l'avvitamento esplosivo non lo so no no aspetta no 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 non le impara qui quella tecnica particolare le imparerà dopo però voglio essere sicuro per voglio essere certo ma visto che siamo stati rinchiusi qui per due giorni non siamo riusciti ad allenarci insieme abbiamo fatto un po di pratica singolarmente ma servirà qualcosa se non sappiamo giocare come una squadra non lo so jud vedremo cosa jud sembra preoccupato sono più preoccupata per harley manca poco amico si farà valire chi è più forte farle tutto a posto sembri un po nervoso che io tutto bene amico andiamo ragazzi diamo una lezione big ways ma lo stagione lontano da qui come ci arriviamo tranquilli tutto già organizzato il signor veteran ci porterà lì in autobus intendi quell'autobus l'autobus in asma wow non ci posso credere ci sono anch'io bene se ora volete seguirmi a campo il signor veteran ci aspetta facciamo come la come come sulle due che partiamo il pulmanesci da sotto allora le partite a quattro metto lui metto lui e ok così aspetta però devo vedere axel no ok non è questa meno male no perché sinceramente non so come l'hanno chiamata quella tecnica di axel in italiano e se non sbaglio consuma 100 punti tecnica quindi no non è questa oh mi sento più sollevato anche perché non ricordo quando la impara io mi ricordo giusto qualche partita chiave qualche quando c'è da andare in giro quando non ti dice l'obiettivo non ti dice l'obiettivo è meglio te lo dice ma è un po' velato queste cose così me le ricordo il resto davvero poco attenzione bob stretcher ammaleggerò un buon libro al bar sosteggiando un gaffè ok ma ha 40 anni questo non lo voglio squadra ah eccoti qui sei pronto per partire e ora tutti allo stadio facciamo vedere a questi australiani di che passa siamo fatti ora poi c'è il nostro di football frontier nell'area sud di caccia che bello andiamo a conquistarci la fama stadio football frontier questo posto è gigantesco non posso credere che giocheremo qui ci sono le truppe delle maggiori emittenti televisive finiremo in televisione sono ben pettinato non c'è tempo per queste sciocchezze quando la cerimana di apertura sarà finita ci sarà una bella partita da giocare allora dirigiamoci verso gli spogliatoi prepariamoci per la cerimonia chi sono quelli partecipano anche loro alla cerimonia praticamente hanno preso gli incappucciati del secondo in azuma e gli hanno cambiato colore li hanno messi qui dei geni vediamo un po qualche oggettino c'è da trovare qualcosa si le palline blu basta palline monete ma non le voglio le monete io voglio i punti passione che sono più important andiamo un po qui tiro cometa strale no però attenzione qui attenzione griglia 442 catena acciola italiana e la mi chiamo bernie bernie element bernie element penso potermi battere una sfida a calcio se riuscirei a battermi aggiungerei mirati al sistema di ingaggio distributore ma per sfilarmi bisogna conoscere la password segreta non si trova in questo gioco dovrai cercarla altrove e what non ne ho la minima idea boh non la sapevo sta cosa della password in un altro gioco mi giunge nuova abbiamo gravità massima di qua non possiamo andare ma redette transenne ehi la amico compro qualcosa oh attacco acrobatico tiro della cometa eh nulla di che compro dei guanti micro li do a mark perfetto sono a posto o a posto dipende da dove volete far cadere l'accento io sinceramente le faccio cadere come capita dipende da come mi gira in quel momento e al d'altro Travis noi siamo pronti allora guarda che belli siete pronti per le cerimano di apertura? si mister e subito dopo ci sarà la partita inaugurale mi viene il batticuardo a solo pensiero non preoccupatevi ragazzi io vittorio a fare moltifo dalle ultime file la partita vincerà l'inazuma japan il giapponese viene meglio sicuramente perché per il fatto dell'alfabeto giapponese ehi ci siamo il football frontier international inizia con le qualificazioni del girone asiatico Australia Qatar Cina Arabia Saudita Uzbekistan Thailandia Corea e Giappone questi otto paesi si scontreranno sul campo quale di loro riuscirà ad affrontare il mondo intero ecco i giocatori della inazuma japan che portano sulle spalle le speranze della nazione è arrivato il gran giorno finalmente forza Mark fatti valere coraggio datevi da fare ragazzi mettiamoci da fare allora tutti con te Mark Evans ne abbiamo fatta di strada non è vero è ora di affrontare il mondo che emozione non sto più nella palla Mark devi mettercela tutta è arrivato il tuo momento la voce di la voce di hanno usato la stessa doppiatrice di di Silvia per Susette forse avevano no per Susette per per Victoria Emanuela Pacotto probabilmente dovrà doppiare solo quella parte quindi tagliamo i costi e ora primo ministro che dirà la cerimonia con un breve discorso ehi vanguard ha 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 allora giovani promesse del calcio qual è la migliore squadra al mondo? il football frontier international è stato concepito per avervi voluto rispondere a questa annosa domanda lo spirito agonistico infiamma ai nostri cuori il prestigio delle nostre nazioni è nelle vostre mani ci aspettiamo grandi cose da voi è un grande piacere per me quindi annunciare che le qualificazioni asiatiche dell'FFI sono ufficialmente aperte signore e signori ecco il momento tanto atteso sta per iniziare la partita in augurale delle qualificazioni asiatiche dell'FFI in Azzuva Japan affrontare i campioni australiani i Big Ways in una partita che sembra molto promettente buona fortuna nei rottoli ne avrete bisogno non preoccuparti dal meglio di noi può starne certo che gorilla strafottente se provo a pestarmi ancora ai piedi io tranquillo tranquillo ehi Harry che ti prende? perchè non ti da una calmata? ah ecco di lì da questa parte ragazzi posso fare una foto per immortalare l'evento? domani sarete sulle pagine di tutti i giornali quindi voglio belli sorridenti forza ragazzi tutti qui sono svelti non contare su di me che cos'è questa storia archer? vieni a farti fare una foto anche tu Kaleb ah che belli belli e sorridenti parla con Silvia quando siete pronti ma io ero già pronto volevo subito andare ad affrontare tutti sei pronto Mark? eccoci finalmente nella nostra prima partita ce la potete fare ne sono sicuro buona fortuna dai che ce la facciamo dai belli carichi siamo dai ci dà le ultime direttive questi sono i giocatori che scenderanno in campo Hobbs, Stonewall, where are you married in panchina? buona fortuna ragazzi Austin tu sarai il nostro osso della manica preparati a intervenire quando ne avremo bisogno si capitano in panchina? beh bella fiducia ok dunque Mark eccoci qui finalmente fatti valere oggi e rendici fieri di te il Giappone è pronto per sfidare il mondo è vero siamo pronti Cain in campo Hobbs, Stonewall in panchina l'unico da cambiare è Austin con lui andiamo allora stadio FF Football Frontier Road to World ah che big wave su da mi faremo affettine l'attacco l'attacco non mi piace meglio è così vai ora la difesa va bene un 3-3-3-4 un 3-3-4 direi che è la cosa migliore non fermarla passala scendete dalle nuvole e imparate cosa vuole dire avere una difesa blindata bunker asfissiante wow non perdono tempo ben utile bunker asfissiante all'occhi non è una bellezza allora prima di vedere come farete a passare oltre questa non è una tattica qualunque sembrava quasi una tattica speciale e se si trattassero di tattiche speciali ah Harley deve essersi sentito così quando l'hanno circondato la Raimon neanche ci ha provato neanche ci ha provato hanno segnato quasi occhi chiusi l'allenatore aveva ragione queste squadre internazionali sono in gamba fin troppo mi sa che presto mi supplicaranno di salvargli il fondo schiena se la donna tra travis ci avesse permesso di allenarci come squadra avremmo potuto fermarli andiamo la partita è appena incominciata la palletto fanno il buon uso oh si proviamoci fin troppo facile circondate gli ragazzi bunker asfissiante no di nuovo non abbiamo possibilità di dribbling né in mezzo né ai lati che cosa facciamo la chiave per liberarvi dal bunker asfissiante proprio davanti ai vostri occhi la chiave ragazzi era come essere intrappolato in una bara o altro una bara come un bunker o una stanza ma certo ragazzi pensate al bunker asfissiante come una stanza questo significa che ha quattro mura ricordate veramente che abbiamo fatto nelle nostre stanze danza intrappolante ma cosa bene ora che abbiamo imparato danza intrappolante vorremmo riuscire insomma a essere un pochino più agguerriti eccolo eccolo subito andiamo subito con la tecnica avvitamento esplosivo oh yeah vediamo un po' se riusciamo subito a segnare un gol ah barriera oceanica e evoluzione 1 e vai gol oh yeah baby iniziamo bene continuiamo a fare pressing perfetto mark iniziamo bene ragazzi sono veramente euforico oh che bello vediamo oh no potevo rubarli parlo con con la tecnica lì ah vabbè dai sarà per la prossima però non so boh ma ragazzi la difesa è deludente proprio a dir poco aaaah spero con te col fulminio di 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 nathan neanche non ce l'ha ancora uffa pugno di giustizia ragazzi eh dai ma così me lo dici a saperlo a saperlo no dai ancora ma ancora eh blocco si il tiro blocco eh ah meno male ok ottimo ottimo oh subito no 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 grande oddio forse se facevo qualche passaggio veloce con con axel beh metà la di rompente è forte versione 2 contro e vai e vai continuiamo a fare pressing e vai ma è così ottimo ottimo ragazzi ottimo non potevo non potevo chiedere di meglio è andata benissimo è andata oppla ah vabbè no no nooo oddio questo tira ti prego Mark Mark ti prego con la zanzara che mi da fastidi no dai ma come no non male eh eh purtroppo ai 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 pure la difesa è grande la difesa eh non è che è composta da da due soli giocatori non lo so ci provo vabbè ovvio no che fai eh vabbè dai fine primo tempo ops tu giocherai nel secondo tempo si allenatore cercherò di non intracciare nessuno quanto a te Kane avevo ordinato di non lasciare dormitorio ma tu sei uscito di nascosto per allenarti eh no io ah mi ha beccato spero per te che ne sia valsa la pena fare meglio e segnare un gol usando la tua nuova tecnica speciale Harley hai imparato una nuova tecnica? non ci credo lei lo sapeva mister sono senza parole però devi ancora essere perfezionata allora perfezionala e in fretta tutto quello di cui hai bisogno è già in campo i riflettori sono puntati su di te se ami il mare come dici allora non sarà uno non da due a spaventarti hm? che cosa devo indovinello? non potrebbe parlare un po' più chiaro? metti in campo Harley e Austin Hobbs vediamo un po' ha! non credere di spuntarla bello se pensi di riuscire a rubarmi i palloni ti sbaglio di grosso che cosa stavi dicendo? guardalo fiero ha passata e vabbè ovvio che bloccava il tiro no? ah ha mancato un'occasione d'oro ma che cosa gli ha preso? perché non ha tirato quel citrullo di Austin? ehi quella parata era come un muro d'acqua sembrava un'onda ho trovato posso surfarci sopra fino in spiaggia qui amico questa è la mia onda però con doppio tocco di Austin dovrei riuscire a dribblare quando prendo possesso di palla e se riesco magari a rubarla ok ok ci sono ci siamo dov'è Austin? eccola qua Harley è tutta tua incrociate le dita è il momento di sponderare la mia nuovissima tecnica speciale il tifone vai fammi vedere bella zio bella oppla vai un altro gol gol si oh amico mio impossibile l'alternatore Travis non può avere previsto anche questo o si? e invece si accidenti oh hanno cambiato come si chiama? portiere hanno messo seahorse cavalluccio marino ecco colpo del canguro ma con gli occhiali ma quanti anni ha sto giocatore? ma ha 150 anni è un vecchio vai super blocco difensivo oh yeah e infatti lo schiaccia lo riduce a una sottiletta ottimo inazomachia pan furore non era questo quello che volevo volevo effettuare un tiro dalla distanza ma a quanto pare non me lo permettono o forse ora ah non bastano i punti e beh andiamo col tiro lungo allora dai onde non arrestabile versione 2 yeah no non pari non pari non pari e infatti e infatti non pari 4-2 amico mio 4-2 andiamo a fare pressing yeah mamma mia ragazzi mamma mia una cosa vuoi intercettare tu cosa vuoi intercettare vai ragazzi siamo inarrestabili ma quanto è durato? eh da 14 a 21 5 secondi il durato? eh non lo so ragazzi oh attenzione aurora dribbling 39 punti tecnica mamma mia ma questo è vecchio fra 50 anni almeno dai su ti e gli lo ho passato ti e gli tesoro è vabbè intanto ragazzi non mi preoccupo perchè oramai Anche fanno un altro gol Non serve a nulla Ma si si tira tira Tanto Dai fuori fuori Ma andava fuori andava E guarda dove sta Guardala Brutta storia abbiamo perso A quanto pare questi calciatori giapponesi Non sono per così incapaci Davvero? Nessun rancore allora E visto che siamo sulla stessa lunghezza d'onda Dovremmo surfare insieme prima o poi Affare fatto Ma prima penso a vincere il girone di qualificazione E non deludermi Ok Wow Quanti livelli Erano davvero forti Dovrò allenarmi di più Eh si Devo giocare contro le altre squadre E allenarmi seriamente Congratulazioni ragazzi Avete sopra il primo turno del girone asiatico È stata una grande partita Grazie infine Signor Raymond Noi l'avremmo abbattu senza il suo aiuto Allenatore Travis Mi sbagliavo sul suo conto Lei non danneggerebbe mai la squadra Che cosa è successa davvero La Cherry Blossom? La prego Ci racconti la verità Abbiamo bisogno di rifilarci ciecamente Del nostro allenatore Non si preoccupi Percival Ci penso io Come vuole Hillman Come già sapete Il signor Travis Era l'allenatore Della Cherry Blossom Junior High Sotto la sua guida La squadra è riuscita a qualificarsi Per le finali del Football Frontier Tuttavia Il giorno della partita La sua squadra si azzuffò Con la squadra avversaria E un membro di quest'ultima Rimase ferito La squadra avversaria Era la Royal Academy Allenata da Ray Dark Ray Dark? Allenatore Travis Venuto a conoscenza dell'episodio Sospese l'intera squadra Scongiro Dark di lasciar correre Per evitare ulteriori conseguenze Ai suoi giocatori Ma fu ignorato Per proteggere i ragazzi Percival si prese la responsabilità Lui fu sospeso E la sua squadra Fu costretta a ritirarsi dal torneo Questo avvenne dieci anni fa La qualifica di allenatore Gli è stata restituita solo di recente Ma se ho scelto lui Non è stato per fargli un favore Glielo ho chiesto Per una buona ragione In tutti questi anni La passione di Persola Per il calcio Non è mai avvenuta meno Non ha mai smesso Di studiare nuove tattiche Ho capito che la squadra Aveva bisogno di una persona Totalmente leita dal calcio Come lui E la vittoria di oggi L'ho confermato Grazie per le belle parole D'allenatore Ma la strada è ancora molto lunga Se vogliamo fare di questi ragazzi Una vera squadra Domani mattina Ricominceremo con gli allenamenti E saranno più duri che mai Ci siamo capiti? Certo L'allenatore Travis Grazie mister Sembra che In fondo Ci sia di che sperare E allora speriamo Giudo Speriamo Questo significa Che nel prossimo turno Giocheranno contro il Qatar Giusto? La squadra giapponese È molto interessante Ma ha ancora Dei problemi da risolvere E cioè? Che genere di problemi? Tanto per cominciare Uno di loro Non sta ancora giocando Al meglio delle sue capacità Non credo che possano conquistare Il titolo mondiale In queste condizioni Ti aspetta una brutta delusione Oh Austin Perché non hai tirato Quando sei presentato All'occasione? Perché non rego il confronto Con te Axel Comunque adesso devo andare Ciao Aspetta Austin Ehi Axel Cosa ci fai qui? Non devi andare a trovare Giulia da ospedale? Ah sì Stavo giusto andando Salutami Giulia Austin A chi vuoi darla a bere? Avresti potuto segnare Perché non l'hai fatto? Vallo un po' a sapere Axel Hai vinto Bravo Bravissimo Ho saputo tutta la partita In televisione Sei stato incredibile Ehi Giulia Se continui a saltellare In giro è così Potresti trovarti A passare qui Più tempo del dovuto Ah Sei tu Axel Ciao papà Papà hai visto Axel Giocare a calcio in tv? Che stile Stai ancora perdendo tempo Con queste sciocchezze E' meglio che torni al dormitorio A presto Giulia Oh Ciao Axel Axel Ricordati della tua promessa Sì papà Quale promessa? Di cosa stanno parlando? È il momento di affrontare È stata una partita Davvero interessante Un 4 a 2 Non me lo sarei mai aspettato Sinceramente Addirittura due gol in più Di quello che mi serviva Alla fin fine Io come sempre Vi ringrazio Di aver seguito anche Questo video Vi ricordo che in descrizione Ci sono dei link Per twitter e per instagram E se ancora non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre domani Con un nuovo video Bye 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 bye